Oggi c'è stata una giornata fondamentale per il proseguo dell'attività del Consorzio, in particolare nella nostra attività di manutenzione ordinaria, per gestire correttamente i residui che derivano da cantiere. Questo per il rispetto della normativa ambientale che, 152-2006, con le sue successive modifiche e le ricezioni delle indicazioni da parte dell'Europa. È stata una giornata fondamentale perché abbiamo condiviso gli step fondamentali per un corretto tracciamento della filiera della gestione del residuo, che consentirà quindi una manutenzione ordinaria che non solo andrà a svolgere il compito di proteggerci dal rischio idraulico, ripristinando l'ufficiosità idraulica dei fiumi, ma anche una corretta tutela dell'ambiente nei nostri lavori. I lavori assegnati dal Consorzio agricolo sono veramente uno strumento che funziona per la collettività e nello stesso tempo un'opportunità di reddito importante per le nostre aziende. Oggi abbiamo assistito a un tema molto importante, caldo, quindi la gestione dei rifiuti che derivano dalle lavorazioni e quindi il Consorzio ha correttamente spiegato, per chi magari ne avesse avuto ancora bisogno, la corretta gestione di questi residui che derivano dalle lavorazioni che le aziende fanno. Si prosegue, prosegue positivamente. Le aziende agricole hanno dimostrato la grande disponibilità nell'esecuzione dei lavori e l'approfondimento che abbiamo fatto questa mattina sarà molto importante per un'esecuzione adeguata e per un'attenzione all'ambiente ancora più attenta. Le organizzazioni professionali in questo percorso fanno ovviamente un prolungamento di quella che è l'attività che già il Consorzio sta facendo con assoluta professionalità, quindi formazione ed assistenza per le aziende che, ai miei si trovano ancora una volta di fronte a un aggravio burocratico della faccenda, ma abbiamo visto e percepito dalle aziende nulla di grave, quindi abbastanza assimilabile e superabile.